Una tua impressione? Sarà una tappa velocissima. Bene. Ieri? Veloce, sicuramente bello. Però bello essere partito da Torino. Bellissima la crona in centro città. E oggi inizia veramente bene. Grazie. Allora, grazie per le foto. Il Team DSM! Com'è andata? È andata bene. La prima è andata. Benissimo. Si pensa oggi. Perfetto. Grazie, Roberto. Grazie.